Video molto interessante ragazzi, andiamo a vedere come si può migliorare la struttura di un terreno che è molto argilloso, vi darò un bel po' di consigli, pollice in su se vi piacciono gli argomenti di questo canale, andiamo subito al video. Vediamo innanzitutto come si riconosce un terreno argilloso e quali sono le caratteristiche negative nelle coltivazioni dei nostri ortaggi. In un terreno argilloso, compatto, pesante, basta anche una sola pioggia e subito si formeranno delle pozzanghere perché la struttura del terreno è molto compatta. Una seconda prova che possiamo fare è quella che appena su un terreno lavorato fa la prima ruggiata, bassa anche quella della notte, se noi ci passiamo sopra vediamo che subito si attacca alle suole delle scarpe. Abbiamo così determinato che questo terreno è abbastanza argilloso, che cosa significa argilloso? Che questo terreno, guardate qua come si compatta, ha una struttura molto sottile, le particelle qui sono davvero davvero piccole, quasi limose e quindi anche se è lavorato questo terreno ben presto si ricompatta. Viene con sé che con questo tipo di terreno, come si compatta un po', l'acqua ristagna subito sopra perché non penetra nel terreno, non filtra, non è permeabile. Un primo aspetto negativo di un terreno argilloso è quello che ci limita le lavorazioni, come c'è un po' di ruggiata, un po' di pioggia chiaramente non possiamo entrare a fare queste lavorazioni. Un secondo aspetto molto negativo è quello del ristagno di acqua sugli ortaggi se ristagna acqua vanno in asfissia radicale e ben presto iniziano i marciumi radicali. Un terzo aspetto molto importante è la limitazione della coltivazione degli ortaggi, ci sono ortaggi che non amano i terreni pesanti. Un altro aspetto fondamentale è che un terreno argilloso ben presto compatta e le radici degli ortaggi non riescono facilmente a penetrare questo terreno e non riescono facilmente ad assumere gli elementi nutritivi di cui hanno bisogno per crescere. Un'altra operazione difficoltosa è la lavorazione del terreno, sia con attrezzi a mano che con attrezzi collegate ai mezzi meccanici ed anche lo sminuzzamento delle zolle è sempre un'operazione difficoltosa. Ma vediamo alcuni passi per migliorare questa struttura del terreno e cercare di renderla più soffice, più permeabile. La prima cosa da fare la migliore, quella che ha un'azione più veloce per migliorare la struttura del nostro terreno, è inserire del materiale organico. Un'ottima azione è quella di andare ad inserire nel terreno dell'etame maturo, può essere equino, bovino, ma anche equino, non è un problema, distribuiamo sul nostro campo circa 4-5 kg a metro quadro di letame maturo e poi andiamo a fare una leggera lavorazione, lo andremo a rinterrare solamente di quei 10-15 centimetri. Questo preziosissimo materiale organico, oltre che a nutrire il terreno, lo arricchirà appunto di materiale organico, ma siccome contiene all'interno già tutti gli insetti demolitori ed anche i lombrichi, andranno loro stessi a migliorarci la struttura del terreno, a renderla quindi più soffice, più permeabile. Per chi invece non ha l'etame maturo può anche inserire nel terreno del terriccio, della torba, bastano 10 litri ogni metro quadrato, stessa lavorazione, lo andiamo ad interrare leggermente a quei 10-15 centimetri e questa torba, questo terriccio, può andare a migliorare la struttura del nostro terreno, perché è materiale organico ed attirerà anche tutti quanti i microbatteri demolitori, quindi la struttura del terreno migliora. Possiamo inserire all'interno del terreno qualsiasi materiale organico che noi abbiamo a disposizione, utile come le foglie, come la paglia, come anche tutti quanti alla parte dei sovesci che noi possiamo fare, quindi con i trifogli, con il favino, con la vecia, che oltre a dare materiale organico andranno anche ad arricchire di azoto il nostro terreno. Un altro passaggio è quello di andare ad inserire all'interno del nostro terreno della sabbia di fiume, in modo che questi piccoli granelli si mescolano al terreno, alla struttura limosa del terreno e quindi lo rendono un po' meno pesante, riescono a renderlo un po' più permeabile all'acqua. Se ripetete tutti gli anni queste lavorazioni base, in 4-5 anni vedrete un ottimo miglioramento della struttura del vostro terreno, da argillo si inizierà a diventare più leggero, più soffice, più permeabile. Vi ripetiamo un attimo velocemente, inserimento di materiale organico all'interno della struttura del vostro terreno, si tratta quindi di letame maturo, di tutti quanti gli organici che sono già predisposti ad essere soffici, come le torbe, i terricci, i compost, ma anche paglia, foglie, sfalci, i sovesci delle nostre erbe ed anche inserimento di sabbia di fiume, mi raccomando.